Ciao ragazzi e bentornati su H3Gicalteam, sono Federico e oggi vi parlo di un nuovo progetto che stiamo mettendo su insieme ai ragazzi di H3DocLab. Stiamo creando un webinar, cioè un corso online di suture dal vivo con uno di noi più una classe composta da al massimo 10 persone. Includerà il kit da sutura, per i primi corsi avrà un costo di 50 euro e visto che il kit costa 45 euro su ebay, a soli 5 euro in più avrete tutto quanto il pacchetto, cioè sia il kit da sutura con gli aghi, i fili, tutti gli strumenti che vi servono, più il pad per cucire e più il corso con uno di noi. Questo corso partirà tra un mese, un mese e mezzo, cominceremo da uno o due corsi, poi se l'iniziativa avrà successo continueremo a farlo, magari inizieremo a fare altri corsi. Fateci sapere qua sotto se siete interessati e se voleste partecipare a uno di questi webinar e fateci sapere se questa iniziativa vi piace. Da Federico è tutto e ci vediamo al prossimo video. Ciao ragazzi!